Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi apriamo un'altra casella del calendario dell'avvento di Harry Potter Allora, apriamo Questa è la casella che abbiamo aperto ieri La numero 1, infatti come vedete è aperta E qui invece abbiamo la numero 2, quella che apriremo oggi Quindi iniziamo ad aprire Cos'è? Che belli! Sono dei bigliettini che si attaccano ai regali di Natale che facciamo E poi qui scriviamo a chi ha indirizzato il regalo e chi l'ha fatto Sono bellissimi uno, c'è il vige Sì di qua Sì di qua E un altro invece c'è lo stemma di Hogwarts da una parte E dall'altra c'è tutta una fantasia con i diversi animali delle case Sono molto belli Li userò di sicuro Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace Ci vediamo domani Ciao Ciao